L'incidente è il pomeriggio di venerdì 9 febbraio intorno alle 16 sulla strada vecchia per Ivrea Castellamonte, quasi all'altezza, con la provinciale 60. A scontrarsi due vetture, una mini condotta da una donna e una Fiat Panda con a bordo due ragazze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo Canavese, l'ambulanza del soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte e l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese. Ferita, ma non in pericolo di vita, la conducente della mini, che dopo le prime cure sarà trasportata ad Ivrea. Il lese e le due ragazze, residenti a Castellamonte, che erano a bordo della Panda. La dinamica è il valio del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Ivrea, giunti sul posto per i rilievi. Grazie a tutti.